C'è in provincia di Liborno, è un po' nell'introterra di Liborno, però poi c'è il mare. È famosa per i cipressi? Esatto, c'era Carducci, c'è Castagneto Carducci dove io stavo. Scusa, dimmi ancora che è un progetto che va ponderato? Un progetto che va ponderato, quella della vendita dell'olio d'oliva a New York, l'olio d'oliva che viene da Bulgari. Gli hanno dato un nome strano, ragazzi. Sentiamo? The Jewels of Toscany. Io quando l'ho chiuso ho detto, allora mi hanno dato una bottiglia per provarlo.